Dottore Cocchiara, è un luglio caldissimo a Gela, immaginiamo che siano già state tante le richieste da parte dei genitori per capire che condotta può renessere nei confronti dei bambini, sia al mare che quando si decida di fare una passeggiata all'aperto. Sì, in effetti quest'anno è un luglio molto caldo, contrariamente all'anno scorso, dove le temperature sono state più ummiti fino a tutto agosto. Le regole sono quelle di sempre, i bambini vanno esposti poco al caldo e nelle ore protette, quindi significa se portiamo a mare questi bambini di mattina li porteremo a mare alle 8 e mezza e massimo alle 10, 10 e mezza li riporteremo a casa, mentre se ci andiamo in pomeriggio dopo le 16 e 30. I bambini vanno ugualmente protetti con fattori protettivi 50, non ci sono più quelli ad altissima protezione o ad alta protezione, ma i fattori sono indicati numericamente e il fattore 50 è quello per i bambini. E poi valgono le altre regole, quello di bere tanta acqua, mangiare frutta e verdure in maniera particolare, l'acqua, quella oligominerale, ma qualsiasi acqua va bene, evitare bevande gassate, evitare Coca-Cola, aranciate, bibite, per gli adulti evitare le bibite alcoliche, che in ogni caso fanno male. E invece, dottore, per la merenda i genitori come devono comportarsi anche al mare? Bene, al mare bisogna portare frutta, in questo modo i bambini si saziano e nello stesso tempo e non mettono più calorie e fanno un pasto sereno. Così possono permettersi anche di andare in acqua tranquillamente e così sono tranquilli loro e tranquilli noi. In estate l'incidenza delle dermatiti è superiore rispetto alle altre stagioni e se sì, perché e come gestirle? Sì, è superiore perché è facile con queste alte temperature, i bambini ma anche gli adulti sono esposti ad infezioni della pelle e bisogna intanto gestirle in maniera naturale e quindi se noi proteggiamo questi bambini con i fattori protettivi, e quindi dicevamo il fattore 50, negli adulti anche il fattore 30 può andare bene e con esposizioni, evitando le ore di maggiore esposizione al sole, allora in questo caso noi eviteremo anche la possibilità di avere più dermatiti fotosensibili. Tra l'altro la prevenzione non serve solo per le malattie cutanee così in genere, le malattie dermatologiche, ma serve proprio per evitare che il nostro corpo possa essere esposto alla possibilità di raggi ultravioletti in maniera intensiva che può portare anche al melanoma.